C'è grande attesa per il primo intervento pubblico da uomo libero di Julian Assange. Il fondatore di Wikileaks parlerà il primo di ottobre a Strasburgo davanti alla Commissione per gli Affari Giuridici e Diritti Umani. Assange, a partire dal 2010, ha subito una persecuzione giudiziaria che lo ha portato a doversi rifugiare nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra dal 2012 per sette anni e poi essere recluso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito. C'è una grande attesa e in modo particolare io ho una grande attesa perché lavoro su questo caso da 15 anni e in tutti questi 15 anni io l'ho incontrato da uomo libero una sola volta il 27 settembre del 2010. Quindi il primo ottobre del 2024 sarà la prima volta che lo incontro da uomo libero da allora. Sarà straordinario vederlo finalmente camminare da uomo libero dopo tanta sofferenza perché ha sofferto tantissimo Giuliano Assange. Io ne sono testimoni, come me ne sono testimoni i colleghi che negli anni sono andati all'ambasciata a trovarlo, hanno visto in che condizioni viveva da recluso. Innanzitutto l'idea di vederlo libero davanti a delle autorità autorevoli secondo me è già una grande conquista. Credo sia un passaggio importante ma so che insomma anche Stefania ha raccontato bene in dettaglio quello che succederà. Io sono ovviamente estremamente curioso anche perché andranno in diretta sul canale in streaming insomma per cui seguiremo con grande attenzione. Quello che comunque già sappiamo però verrà dichiarato ufficialmente di fronte alla Corte per i diritti. Speriamo che questa storia al lieto fine sia veramente al lieto fine ci sia il report che si discuterà al Consiglio d'Europa venga votato si riconosca che è un prigioniero politico che la crociata che ha subito giudiziaria e legale è qualcosa di inaccettabile che criminalizza tutti i giornalisti e il diritto dell'opinione pubblica di conoscere cosa fanno i nostri governi con i nostri soldi e a nome nostro.